salve gente bentornati due minuti una profumazione oggi si parla di questa goose creek che è in un formato diverso non è la wax melt quindi la tartona bensì è una file flies quindi una lucciola sono delle candeline sono un pochino più grandi delle cose delle tea light e si accendono lì e hanno il loro coperchietto è un formato già visto ed è molto comodo la rimettiamo qui la descrizione ufficiale della goose dice la mattina di natale qui la nostra ricetta unica per gli eggnog è perfetta per i deliziosi cupcake di natale note di testa miele cannella burro note di cuore crema caramello spezie soft dice delicate note di fondo bacche di vaniglia e latte allora sa esattamente di quando ci si mangia una quantità industriale di panna montata ma non quella spray è proprio quella del dolce con dentro quella che non mi ricordo mai il nome la densante che diventa bella tamugna bella densa proprio ne mangi che ne mangi che ne mangi che un certo punto dici sento che morirò a breve ecco questo è il profumo di questa profumazione quindi aprite bene i padiglioni auricolari tutti quelli che sono fan delle dolciose scappate tutti quelli che meglio che scappino tutti quelli che non le sopportano perché questa qua è davvero una bomba calorica cioè si possono percepire le adesso non verranno assimilate però si possono percepire la quantità di calorie che sarebbero assimilate se questo fosse un dolce vero è davvero molto molto dolce già in questo formato adesso ve la avvicino così ve la faccio vedere meglio e già in questo formato adesso a forza di stare lì c'è venuto anche sto segnetto in questo formato si sente un sacco ecco infatti c'è il nome del del fire flash come si chiama il formato e eggnog però io devo imparare che se non lo sistemo lo doom non va il fuoco è eggnog quindi ci sono questi cupcake con sopra questa spallozzata di di crema di burro crema di per me panna montata dolcissima stomachevole perché se dovessi mangiarla davvero sarebbe proprio una mazzata uno schiaffo alla dieta e rischia di diventare un pochino stucchevole quindi se vi piacciono proprio quelle borderline di mamatti proprio di profumazioni questa fa al caso vostro se l'avete già provata ovviamente adesso riproviamo a mettere lo zoom io lo chiamo sempre zoom però comunque il fuoco e se l'avete già provata mi raccomando scrivetemelo qui su in alto fatemi sapere se vi è piaciuta oppure no nel caso scrivetemi un commento se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e per chi non è iscritto iscrivetevi al canale attivando il campanellino così vi arrivano le notifiche giù nell'info box vi lascio anche il link del negozio dove ho acquistato questa profumazione e che è vivo naturale mi pare non ricordo mai il nome perché erboristeria naturalmente su facebook ed è vivo naturale il sito e comunque vi lascio il link ed è di tatiana battaglia il negozio sempre nell'info box vi lascio anche il link del gruppo facebook and università in edition e la mia pagina facebook il mio blog di nuovo link al mio canale e altri link interessanti e poi niente io i video come sempre li pubblico lunedì il venerdì e anche tutti i mercoledì e adesso linea al tg ciao